La comunità degli appassionati del volo di Vigevano è scossa per il tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio nelle campagne tra la frazione Buccella e il Ticino, in cui sono morti il responsabile dell'aviosuperficie Leonardo da Vinci, Gustavo Saurin e il suo passeggero, il 24enne gravellonese Generoso Vitaliano. I due stavano viaggiando su un aereo partito dalla pista di strada dello Scoglio per un giro a sorvolare il fiume. Una tratta abituale in una giornata dalle condizioni meteorologiche ideali, ancora ignote le cause dell'incidente. Inverivolo è precipitato nei pressi del canale che porta alla centrale idroelettrica e per i due non c'è stato nulla da fare. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che stavano smontando dalle ricerche del corpo di Giuseppe in carbone, l'autista ucciso a Vigevano un mese fa. Ricerche che si svolgevano a qualche centinaio di metri da dove è avvenuto l'incidente aereo. Pilota tra i più esperti della zona, Gustavo Saurin, a 72 anni, era l'anima dell'aviosuperficie vigevanese che aveva contribuito a rilanciare negli ultimi anni. Generoso Vitaliano era un appassionato che, come tanti, era andato in visita all'aviosuperficie chiedendo di poter fare un giro in aereo.